per provare a tenere attenzione riccio riccio prova la palumbella goooooooooooooooooooooooooooo incredibile sciapo primo gol con l'avellino per vincenzo riccio ha scelto un'occasione tutta particolare il colpo sotto un gol alla sudamericana e stava nell'aria questo 4-0 che penalizza fortemente la Salernitana la quale non ha nessuna colpa ci sono dei giocatori che purtroppo fanno la differenza nel momento più opportuno della partita legge il primo tempo Grieco legge in questo momento qua questo giocatore che nel contropiede è riuscito a fare una pallumela un gol eccezionale bellissimo purtroppo la Salernitana sta pagando caramente questa inesperienza di qualche suo giocatore straordinario Vincenzo Riccio primo gol per lui con la maglia dell'Avellino adesso ha munito perché ha tolto la maglietta ma viene perdonato dal pubblico standing ovation per lui purtroppo la Salernitana lo fa